Ciao ragazzi, sono le 4, le 5 del mattino e sto facendo questo video solo per voi, non mi vedo bene comunque ragazzi Vediamo se questo va bene, mi state vedendo? Sono le 5 del mattino e sono ancora sveglio Praticamente sono tornato dal mare e ora sono tornato a Milano Sono tornato a Milano e adesso sono le 5 del mattino e sto facendo questo video solo per voi, per dirvi che è veramente successo di tutto in questo viaggio Abbiamo visto molte cose, tipo, trane cose, tipo una volta ho visto una persona che era nel bosco, non lo so cosa ti faceva lì, non lo so proprio Forse era un uomo di acqua, non lo so, ma, cioè, è stata stranissima questa cosa qua Allora, mentre ragazzi, sto giocci, guarda, ho gli uomini, ho gli saltissimi, mi piace perché ho fatto questo video alle 5 del mattino Bene, questo può bastare, ciao ragazzi, iscriviti al mio canale, mi raccomando